Musica Voltiamo pagina a boom di turisti in questo agosto in penisola sorrentina, ma i titolari di strutture ricettive manifestano preoccupazione in vista di settembre. Ci spiega perché Luigi Carbone. Abbiamo avuto certamente un eccellente ferragosto, è stato un periodo, ma tutto il mese d'agosto si è lavorato bene, si è lavorato bene anche fino a fine mese. Il problema più che altro è settembre, che mi preoccupa. Settembre è stato sempre un mese eccezionale per la penisola, abbiamo sempre avuto con occupazioni altissime. Rimane questo punto interrogativo, sempre questa problematica del mercato inglese, ma anche gli altri mercati a questo momento ci preoccupano un po'. Nella penisola sorrentina piena di turisti, in prevalenza italiani, con strutture ricettive e lidi balneari quasi sold out, il pensiero di tour operator, albergatori e ristoratori corre già a settembre, mese storicamente molto propizio, contraddistinto però da una presenza preponderante di inglesi e americani. La prospettiva positiva se apriamo i flussi internazionali, quindi la parola passa al governo. Aprire i flussi internazionali perché se no settembre-ottobre potrebbe essere veramente un grosso problema. L'appello è davvero unanime, il tempo per salvare una fetta importante di stagione stringe. Intanto non si registrano più intoppi nelle verifiche dei Green Pass, nei ristoranti così come nei luoghi di cultura. A Villa Fiorentino è in corso la mostra Sea Art, ma il pubblico accorre anche la sera. Molte persone stanno venendo soprattutto per gli spettacoli in intrattenimento la sera. Ambe due le modalità di accesso prevedono comunque l'esibizione del Green Pass. Come esperienza finora da quando è entrato in vigore comunque il decreto, quindi dal 6 agosto, possiamo comunque definirla positiva.